Un protocollo che snellisce la burocrazia e che la avvicina ai bisogni delle persone. È quello firmato a Palazzo Strozzi da Estar, l'ente regionale che fa gli acquisti per la sanità toscana e Cittadinanza Attiva, movimento nato nel 1978 per la tutela dei diritti umani e il sostegno ai soggetti deboli. L'obiettivo è rendere più efficiente e vicino ai bisogni delle persone il sistema delle procedure di gara per l'acquisto di dispositivi di autoutilizzo come strumenti o apparecchi utili a persone che vivono con malattie croniche. Io credo che sia una buona iniziativa che è stata proposta da Cittadinanza Attiva e da Estar per rendere un sistema che cerca e persegue naturalmente l'efficienza negli acquisti per renderli anche più efficaci e anche più attenti forse alle particolarità che gli acquisti in sanità devono avere. Quello firmato stamani è il primo accordo di questo tipo fatto con una regione. Toscana dunque in prima fila per migliorare la vita delle persone bisognose. Parliamo di malati oncologici, parliamo quindi di acquisti di istomie per chi ha un problema di questo tipo piuttosto che i diabetici, quindi tutti i presidi e gli ausili che servono per chi convive con una patologia cronica per esempio come il diabete e che ha la necessità quindi di ausili che rendono quindi la loro vita più accettabile, sostenibile. Estar ha finalizzato l'accordo con il Movimento per la tutela dei cittadini, un accordo che prevede anche delle gare in cui gli utenti possano testare i prodotti per valutarne l'acquisto. Normalmente le procedure di gara sono viste semplicemente come un fatto burocratico, qualcosa che appesantisce, che allunga tempi eccetera. Abbiamo cercato di far sì che durante le procedure di gara o a valle delle procedure di gara si facciano delle consultazioni di mercato, si coinvolgano praticamente i cittadini e gli stessi utenti proprio per misurare meglio la qualità dei prodotti. Grazie. Grazie. Grazie.